Il 29 giugno prossimo tutti con il naso all'insù per il passaggio delle frecce tricolori in occasione del momento celebrativo della scuola volontaria aeronautica militare di Taranto. Un momento importante, quest'oggi in conferenza stampa la presenza del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e del comandante della Svam colonnello Fabio Dezzi. Dopo 21 anni il giuramento degli allievi si svolgerà nel centro della città sulla bellissima rotonda situata di fronte al palazzo del governo. Il giuramento vedrà anche la pattuglia acrobatica nazionale che si esibirà con alcuni sorboli sullo specchio di mare antistante, il luogo della cerimonia. Un momento importante, il 29 c'è il giuramento solenne sulla rotonda del lungomare, c'è il cambio di comando, il sorvolo da parte della pattuglia acrobatica, questo legame forte tra l'aeronautica militare e Taranto. Sì, è proprio così, sarà una giornata intensissima, come detto i volontari avranno l'onore di poter impegnarsi nei confronti della patria in un luogo pubblico, quindi di fronte a tutti i cittadini. L'evento sarà impreziosito anche, come detto, dai sorvoli della pattuglia acrobatica. L'evento si chiuderà anche con la cerimonia di cambio di comando e quindi sicuramente una giornata pienissima. È un premio, un regalo che noi facciamo alla città, ma anche un premio regalo che riceviamo dalla città perché, come abbiamo detto, l'interazione, il rapporto con il territorio ionico è estremamente stretto, è saldo, è forte e ha radici antichissime. La Svam, questo presidio così importante per la città di Taranto, che continuerà a svolgere il suo ruolo di preparazione del personale dell'aeronautica militare? Sì, la scuola è l'unico polo per l'aeronautica militare di formazione dei volontari, sia in ferma prefissata che i volontari che poi vincono il concorso e fanno il transito nel servizio permanente. Quindi ci sono tutta una serie di tipologie di corsi, sia di formazione che addestrativi. Sono numeri consistenti, parliamo di circa 1000 WFP1, quindi volontari in ferma prefissata l'anno, e circa 500 volontari di truppa in servizio permanente. Il sindaco Melucci ha ribadito il legame profondo tra Taranto e l'aeronautica militare e noi aggiungiamo anche da un fatto ambientale, uniti nel preservare uno degli angoli più belli, l'idroscalo Bologna, del Mar Piccolo, dall'assalto dei palazzinari. E andiamo ora ad ascoltare l'assessore comunale Tilga. Come città di Taranto invece il percorso quasi centenario ci ha portato sviluppo economico, persone in città, eccellenze, una serie di iniziative che esulano dal puro sviluppo delle attività di militare e di scuola militare. Ed è un percorso che nel corso di questo anno di amministrazione sicuramente reso un po' più fitto e abbiamo ancora tanto da fare insieme, ma è un bel lavorare insieme.